Mary, ma a fine luglio avevi un'abbronciatura pericolosa. Che vuol dire? Margie Shopper per me. Scena. Hai detto uno shopperline? Scena, c'è via. Scena è l'utile, non è uno shopperline. Buon dia, di Don Eres. Sono di... Napoles. Napoles. Adorezzo. Eh sì, fa paura la mia abbronciatura. Però c'è da dire che mangio anche molte molte carote. Tutti i giorni mangio carote. Comunque sembra una ciccione a questa maglia. Carote, carote. Solo carote. Le regalo al mio nipote. Sì, mi mettono qualcosa. Le scotte e le per scotte. E c'è l'eucariota. Mica figuri. Maro! Prisa qua. Maro! Maro! Non ho tre colpette insieme. E fai perché... E se fai te. E' perché praticamente... Antonio diceva che si fanno senza scorza. Di parla. Solo c'è un grido. Non ha fatto senza scorza. Lei l'ha fatto come le fa lei. Lei mette pure la scorza. Tu li mettono. Non ricordo questa cosa. No, no. Ma questa è... Ma no. Ti vanno tutta sfilata lì. Ma tutte sfilate? Sfilate tutto adesso. Sfilate tutto. Ma datemi sotto anni. Vanno mai di chi è? Farnisce il mio telefono. Aaaaaaah. No, no, no. Sfilate tutto. in realtà è vero alluminio tra dieci giorni è il più bello tornisce le mie non ha nessuna parte sono sedia leopatra scena un sono io ma siamo in giù va bene wow è vero come si bello mi piace mi piace mi piace mi piace spesso che cosa fa spesso le denticchie è un frippadano per me è troppo bello bello così non mi piace questa maschera in faccia beh sì, è che non ti vedrai gli occhi ma chi è questo? ma chi è questo? ma chi è questo? ah no, sono duro ma è quello del ciottolo strano posso dire la stessa cosa di dirlo? la mano la testa non fate più questo trend vi prego siete cringe io al passo sta là cringe ma no che bello valeria vi ha fatto questo premio qui che bello ma è roba paura o mai no così è scopatta ma tu non stai lavorando che ti ha zottoni mi direbbe farnisce farnisce lente oh quanto è bello sì sì perché non caricavo non le palline a dentro a fare a fare no che lavorano non è so è vero non so non mi sono guardate è è è è è è wow